E fu così che si bruciò la faccia. Mi funziona una cosa che devo prendere dai cari. Via! Allora, trovo un piccolione, va via! Allora! Mi sciogliano, mi sciogliano! Certo che la cosa è molto green, è molto verde, molto ecologica. Prova sennò a chiedere a Dart Fenner se ti presta la spada laser. Non so se sono più perplessi i cani. Guarda che faccia che fa a tutti! No, ma... La regola dai! Ciao!